Buonasera, oggi è domenica 25 ottobre del 2015, viviamo un po' tutti noi, credo ogni essere umano sicuramente, momenti in cui si viene attaccati, dove si viene criticati, dove si viene messi al bando, a torto o a ragione e nei momenti più difficili che noi attraversiamo, diciamo che ha fatto un'esperienza con l'amore di Dio, un amore vero, un amore che conquista, che perdona, che rilascia le persone. A volte chiediamo a Dio in un modo o in un altro di farci giustizia, chiediamo a Dio di fare vedere agli altri che abbiamo ragione o in un modo o in un altro chiediamo a Dio di proteggerci, chiediamo a Dio di intervenire in determinate situazioni. E una delle cose che accade spesso è che molto spesso quando riceviamo dei torti, noi crediamo che Dio, essendo nostro Padre, si schieri dalla nostra parte. E questo credo che sia normale, normale per tutti quanti, soltanto che una delle cose che a volte noi non comprendiamo di Dio, nostro Padre, è che Lui non si schiera dalla nostra parte a scapito di altri. Lui sarà sempre dalla nostra parte, ma quello che noi non dovremmo mai dimenticare è che Lui sarà sempre dalla parte anche della persona che probabilmente ci sta facendo del male. In che senso? Non che Lui appoggi, ma che Lui sicuramente ama, che cerca di redimere, che farà di tutto per benedirla e per riportarla in un modo o in un altro a ragionare. E il motivo di questo video è che è per fare ragionare a ognuno di noi, me per primo, che troppo spesso viviamo di schieramenti e pensiamo che Dio in un modo o in un altro sia vendicativo e che si schieri dalla parte di qualcuno. Dio non si schiera dalla parte di persone. Dio è schierato dalla parte di se stesso, Lui è amore. Come Lui ama te, Lui ama nello stesso momento la persona che probabilmente ti sta facendo del male. Ti ama nello stesso modo. Lui non ama te perché tu stai soffrendo più di qualcun altro e Lui non si schiera dalla tua parte perché tu stai subendo più di qualcun altro. sicuramente Dio è Padre, Dio onora quelli che lo onorano. Non dimentichiamo che Dio ama tutti e che Lui sa venire in soccorso di chi è nel bisogno. Lui risponde al grido del giusto e sa provvedere a coloro che realmente credono in Lui, ma Lui non si schiera. Lui non è schierato da una parte a scapito di un'altra. E a volte questo lo dovremmo comprendere. chi pensa di far parte della Chiesa di Cristo, del corpo di Cristo, dovrebbe realizzare, dovremmo realizzare e comprendere che Dio non è con uno più di un altro o che Dio non è contro uno meno di un altro. E quindi questo ci fa comprendere che nello stesso modo in cui Dio è schierato dalla nostra parte, Dio è schierato anche dall'altra parte, Dio è schierato dalla parte di chi magari o verso la persona verso la quale stiamo chiedendo magari non vendetta, ma che stiamo chiedendo giustizia, che poi alla fine è la stessa cosa. E quindi semplicemente un incoraggiamento per imparare a vedere le cose dal punto di vista di Dio e non soltanto dal nostro punto di vista. Dio vi benedica, buona serata.